eccoci qua grandissimi ragazzi sono qui a colonia veneta orologeria sandri con daniele che è qua per supportarli perché perché siamo in dirittura d'arrivo ormai è natale mancano pochissimi giorni anzi pochissime ore direi quindi ho deciso di farmi un regalo di scegliere un orologio per chiudere in bellezza questo fantastico 2023 che abbiamo fatto insieme un anno magnifico un anno magnifico per tutti e spero anche per tutti quanti voi quindi insomma c'è la decisione di un modello qui abbiamo delle cose a me molto care abbiamo innanzitutto lo zrc abbiamo un longine magitec abbiamo frederico stan nuovi in due colori da 39 che mi hanno messo più di un pensiero perché bellissimo è bello molto equilibrato molto molto equilibrato un gioiellino un altro longino sei divino elegantino che vi farò vedere tra un attimo è un buon messier nella versione cronografica del riviera perché il riviera come sapete un orologio che mi è entrato nel cuore possiamo dire che veramente un best buy assoluto e vorrei mi piacerebbe continuare ad approfondire il discorso comunque adesso io ve li faccio vedere molto molto volentieri perché i ragazzi chiedono queste bombe a mano e insomma sicuramente abbiamo dei begli oggettini dentro il cofanetto qua ed è anche molto bello il cofanetto esatto esatto tra l'altro questa è la colorazione nuova questa colorazione qua tabacco infatti io ce l'ho rossa e devo dire che anche così mi piace non poco quindi benissimo ragazzi direi di partire alla visione di questi missili e via che si va ed eccoci grandissimi partiamo con un mio grande amore come sapete zrc bello da morì in questa fantastica versione da 41.5 un orologio che ha fatto epoca che a me piace davvero davvero tanto un orologio da 300 metri di impermeabilità dai verone è una cassa molto riconoscibile testata per ben mille metri quindi insomma un mostro marino assoluto calibro abbiamo un onestissimo sellite sv200 e laboremi piacite bracciale fantastico insomma unico per chi è amante del genere con un sacco di brevetti l'estensione il sistema di pulizia della ghiera il fatto che se non è al polso non si apre la corona insomma 3.290 euro per un fagiolone che si fa apprezzare davvero davvero tanto 41.5 che poi vedrete come veste sta che non una delizia di più davvero sempre bellissimo e a me gradito continuiamo invece con una sorpresa frederico stanta iglife qua abbiamo un calibro analogo a quello di prima abbiamo un sellite sv200 cosc per un orologio davvero portabilissima un 39 per 10.3 di spessore quindi veramente la portabilità ai massimi livelli quadrante bianco bracciale a sgancio rapido 1995 euro di listino me lo rendono molto ma molto interessante un 100 metri adatto veramente alla vita di tutti i giorni realizzato molto bene le transizioni satinate lucide sono di primo ordine un orologio che mi ha stupito tanto per la qualità complessiva per la portabilità che poi vedremo per quelle che sono le sue dimensioni apprezzo anche tanto il fondello a vista perché il calibro comunque è rifinito molto bene ci sta devo dire alla grande però adesso vorrei continuare sempre sulla soglia dell'elegantino con una perla preziosissima parliamo del longin heritage conquest un orologio un longino 6 di vino questo mi ha fatto vacillare e devo dire non poco 40 mm per 10.8 di spessore il fondello che va a richiamare i modelli vintage della casa della clessidra alata un pezzo veramente da sballo calibro antimagnetico l 8 8 8 72 ore di riserva di carica un onesta onestissimo impermeabilità di 5 bar un listino un po impegnativo perché parliamo di 3.100 euro però l'orologio veramente bello cinturino da 19 mi fa storcere un pochino il naso perché si può giocare un pochino meno con appunti cinturini però guardate il quadrante che bellezza che ha ovviamente la clessidra alata è applicata un orologio che sprizza fascino heritage da tutti i pori per me tanta tantissima roba veramente bellissimissimissimo continuiamo invece con un orologione golosone bombe messie riviera crono come sapete io sono un grandissimo fan del riviera qua abbiamo la versione con i muscoli quindi la versione crono 43 mm 100 metri di impermeabilità il design il tipico del riviera il calibro è l'onesto 77 50 quindi un calibro non affidabile di più bracciale molto originale ed è uguale a quello del riviera anche qui con sgancio rapido chiusura scomparsa doppia deployant ovviamente presenza del day date perché il 77 50 100 metri di impermeabilità 4200 euro di listino che comunque allineato alla concorrenza il calibro funziona molto bene molto affidabile un orologio che fa del design e dell'affidabilità i suoi punti forse il quadrante molto bello con questo motivo a ondine a me piace davvero tanto come mi piace anche d'altronde sul riviera solo tempo che possiedo continuiamo però perché di frederico stan vorrei farvi vedere anche la versione verde perché l'ho notato in vetrino ho detto fammelo subito vedere perché guardate che razza di verde veramente un orologio molto bello in questa colorazione forse più adatto anche all'autunno ripeto sempre il suo sgancio rapido un quadrante anche qui finemente lavorato si presenta molto bene mi piace tanto anche la scritta rossa che dà un pochino di stacco il verde è un qualcosa che effettivamente strega mi è piaciuto immediatamente come colorazione ha tratto il mio sguardo poi guardiamo anche abbracciare nel dettaglio fatto veramente bene adesso però vorrei farvi di vedere un secondo a confronto sia il verde che il bianco perché vorrei farvi percepire come cambiando semplicemente colore di quadrante sembra che si cambi orologio infatti qui avendoli uno di fianco all'altro a confronto devo dire che sembrano due oggetti diversi cioè il bianco e molto più apparescente più luminoso il verde più discreto più elegante passate al mio termine anche più adatto secondo me per la stagione invernale molto brava frederico stanto un marchio che sto attenzionando sempre sempre di più forse tra i due più a 360 gradi preferisco il bianco ora continuiamo con una bomba questa è una bomba a mano qua trema la terra longin magitec una qualità incredibile qua il caso di dire longino 6 divino la riedizione del mitico pilot magitec un orologio da 43 mm per 13.3 di spessore la cassa è un capolavoro il sistema di rotazione della ghiera tale per cui si muove solamente il dot all'interno che vi faccio vedere è un qualcosa di veramente notevole anche meccanicamente parlando l'orologio è un 100 metri golosissimo il listino è impegnativo sono 4.300 euro però parliamo anche del calibro l893 kosk antimagnetico così come antimagnetico anche quello del conquest che abbiamo visto in precedenza bellissimo fashion heritage a mille mi sentivo veramente un pilota dell'aviazione quando poi l'ho pulsato tanta tantissima roba prezzo molto anche la secondina cos'altro dire su questo orologio è un panerai più bello sinceramente adesso ve lo metto a confronto con il conquest questi due mi stanno dando più di un pensiero perché credetemi la qualità aumentata molto la sticella si è alzata davvero tanto il prezzo è abbastanza altino però li valgono assolutamente tutti ma questo mi è entrato un po nel cuore vi devo dire la verità ora ve li faccio vedere indossati guardate questo 43 come veste bene sta veramente che è una bellezza assoluta in questo caso c'è la box edition quindi cinturino in pelle più anche il nato verde molto militareggiante veramente bello una portabilità ai massimi livelli cassa lavorata benissimo continuiamo in termini di portabilità come questo gioiello e non so cos'altro dirvi questo qui è un gioiello guardate che finezza al polso che bello oggetto per chi magari ama vestire anche un po classico elegante veramente è una bomba assoluta ci tengo a dirlo in tutte le lingue del mondo bello 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 e sulla portabilità perché tanti spaventa guardate questo zrc come calza a pennello 41 e mezzo senza l'ingombro della corona una cassa ma non particolare di più riconoscibile immediatamente primo colpo d'oppio questi orologi credetemi vanno provati perché sono tanta tanta ma tanta roba c'è veramente un orologio che a me emoziona a me emoziona non c'è nient'altro da dire emozione pure continuiamo con un altro gioiellino frederico stante guardate qui 39 mm sul mio polso 18 e mezzo 19 golosissimi portabilità anche qui ai massimi livelli sia sportivo elegante estremamente gradito tanta tanta roba anche questo terminiamo con invece il fagiolone più abbondante di tutti abbiamo il bombe messieri di era crono un 43 mm però anche qui complice il bracciale integrato quindi un lag to lag molto ristretto la portabilità ai massimi livelli a me piace tanto la sua forma che trovo iconica e la complicazione crono mi intriga ma adesso direi di tornare per quelle che sono le conclusioni grandissime ed eccoci tornati grandissimi come avete visto le bombe a mano ci sono e sono clamorose mi sono piaciuti devo dire tutti quanti moltissimo ma bisogna che ne scelga solamente uno verrà a casa con te si vediamo quale insomma casca in piedi in tutti i casi si si devo dire che qua dove prendevi comunque dalla cica andava per avvenire sono messo una penda sugli occhi pesca sarei comunque andato bene no e ne ho scelto logicamente uno ma non ve lo diremo non ve lo diremo non ve lo dirò perché vi farò un video dedicato intanto nel frattempo nei commenti scrivetevi secondo voi quale è venuta a casa io lo so già io lo so vabbè tu si vediamo se se i ragazzi indovinano direi che la scelta potrebbe essere anche abbastanza scontata ma potrei anche sorprendere scontata no perché comunque ci sono diverse scelte appetibili tutte le molto nelle mie corde quindi insomma vi lasciamo questa suspense nel frattempo ragazzi io vi saluto vi ricordo di venire a fare un giro sempre qui a colonia veneta orologeria sandri e vedrete che si sta non bene ma benissimo vi fate anche una bella stecca di mandorlato che per il periodo delle feste è ottimale siamo perfetti ragazzi noi vi auguriamo buon natale e vi aspettiamo e tanti auguri assolutamente ciao grandissimo